In un tabacchino davanti a te un signore anziano compra un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Ma al momento di pagare si distrae e dalla tasca gli scivola il gratta e vinci. Tu lo vedi, lo raccogli, lo gratti. Vinci un milione di euro. Il signore rientra e ti chiede se per casa hai trovato tu il suo gratta e vinci. Cosa gli rispondi? Cosa gli rispondi? Cosa gli rispondi? Non ho da dita, non tenta.